Colleghi, la seduta è aperta, continuiamo i nostri lavori. L'ordine del giorno rega l'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Società Poste Italiana S.P.A., atto del Governo numero 128. Avverto che l'audizione, conformemente alle deliberazioni assunte dalla Giunta per il Regolamento, sarà trasmessa in diretta sulla web tv dalla Camera dei Deputati. Ringrazio il responsabile dell'Ufficio Legale dell'Unione di Difesa Consumatori, Udicon, Avvocato Maria Iaconis, per aver risposto al nostro invito e le cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego, collega Baldelli. La ringrazio. Intanto ringraziamo la responsabile e la rappresentante di Udicon che è presente alla nostra produzione. Io volevo capire, Presidente, se la rappresentante che interviene oggi interviene in rappresentanza della propria associazione di consumatori o se interviene con un mandato a rappresentare l'intero Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori che immagino invece, così come è annunciato nell'audizione, sia stato invitato. Perché chiaramente fa la differenza, nel senso che immagino che la segreteria, gli uffici dell'Ufficio, del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori facciano presenti gli appuntamenti istituzionali a tutte le varie associazioni e poi quelle disponibili rispondano. Però ciascuna associazione risponde per il proprio orientamento a seconda delle tematiche e anche per ragioni di interesse consumeristico che vengono perseguiti dall'associazione stessa in base agli argomenti. Per cui, come dire, vorrei che preliminarmente all'audizione la responsabile, che è qui convenuta, e che ringrazio per la sua presenza e per l'intervento che sta per fare, però chiarisca questo perché noi abbiamo il dovere di aver chiaro che non esiste, in quel caso, a meno che non ci sia un mandato a riferire su una posizione, diciamo così, condivisa dalle altre associazioni, che non abbiamo una posizione specifica del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori, ma abbiamo delle pluralità di posizioni e in questo caso che si è presentata una sola rappresentante di una sola associazione. Sì, collega Baldelli, gli uffici e anche la dottoressa Iaconis mi confermano che effettivamente, come dire, l'invito è stato fatto ovviamente a tutte le associazioni che fanno parte del Consiglio Nazionale, ma solo Udicon ha risposto e quindi, insomma, in qualche modo la dottoressa Iaconis risponde per la sua associazione. Grazie, buongiorno, grazie Presidente, grazie a tutti per questa grande opportunità. Per noi è sempre molto importante partecipare a questi momenti di incontro che ci danno la possibilità di esprimere il punto di vista dei consumatori. Come dicevo, questa posizione che io espongo rappresenta la posizione dell'Udicon e abbiamo esaminato attentamente l'atto del Governo numero 128. Esprimiamo sicuramente grande apprezzamento per questo contratto, ma riteniamo di porre all'attenzione del Governo il nostro punto di vista. Innanzitutto ci sono dei problemi veramente delicati che riguardano prevalentemente l'invio della posta massiva. Ora, sulla posta massiva sappiamo che il problema dura da tempo, sappiamo che è intervenuta anche la Gcom per cercare di stabilire un poco anche delle regole su una data certa, su chi, insomma, dovrebbe essere responsabile. Però molte volte sicuramente, ecco in questo momento noi ovviamente parliamo del rapporto con poste italiane, sicuramente molte volte magari non è responsabilità di poste l'arrivo in ritardo della posta massiva al consumatore che come sappiamo poi crea disagi notevoli, quindi posta che riguarda utenze scadute e quant'altro. Ma secondo noi sarebbe molto importante che poste facesse un, ecco magari prevedere, un resoconto periodico che la società magari dovrebbe fornire al Ministero e all'autorità proprio per capire di che cosa parliamo, di che tenore parliamo, perché questo continuo ritardo della posta massiva. Un altro problema che intendiamo porre all'attenzione di questo importante incontro, insomma, è il problema della notifica degli atti giudiziari. Noi sappiamo che molte volte, in molti uffici postali che sono abilitati non solo nelle grandi città, soprattutto parliamo di Roma, ma anche in tantissime altre grandi città, il problema delle notifiche degli atti giudiziari è continuo e questo crea disagio alla fine naturalmente al consumatore, perché le recartoline che non tornano, tutte queste cose che sono molto importanti, che poi per poter andare avanti con l'istruzione del procedimento in giudizio è sicuramente atto rilevante che tocca direttamente il consumatore. Ciò evidenziato, se mi consentite, vorrei entrare poi nel merito solo piccoli punti, pochi punti vorrei toccare in ordine proprio agli articoli del contratto. L'articolo 2, riteniamo che al comma 2, rechi una formulazione molto ampia, perché sicuramente nel momento in cui prevede che la società si impegna a garantire su tutto il territorio nazionale le condizioni generali, sia per il servizio universale, ma anche le condizioni tecniche, per quanto dicevo appunto poc'anzi, della posta massiva per garantire la carta di servizio e quant'altro, sono sicuramente delle previsioni fondamentali, ma a nostro avviso sarebbe utile prevedere in capo alla società un obbligo di riferire periodicamente al Ministero e all'autorità i dati utili per dimostrare che questa efficienza del servizio, insomma, c'è, che rispetto delle regole la società lo ha, come dire, attuato. Idonea prova, a nostro avviso, dovrebbe essere fornita in merito al rispetto delle esigenze essenziali del servizio. Ecco, mi riferisco all'articolo 2,4 per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Questo è un elemento molto importante, accade non di rado, ed è credo notorio, lo sentiamo, vediamo anche molte volte dei servizi anche televisivi su questo, che ci sono montagne di posta, non raccomandate, soprattutto posta semplice, e pacchi che stanno accantonati in attesa di essere consegnati. Questo soprattutto nei piccoli centri, magari, dove purtroppo c'è anche il problema di chi consegna le lettere, il cosiddetto portalettere, l'antivecchio, insomma, sistema, che ancora esiste, voglio dire, molte volte gli uffici postali, soprattutto nelle piccole zone, non sono dotati di luoghi magari adatti o comunque idonei, la sorveglianza adeguata, eccetera, e potrebbe accadere che molto facilmente i dati personali magari possono essere involontariamente diffusi. Per quanto riguarda poi l'articolo 2,6, apprezziamo la previsione delle valutazioni che, secondo cui, la società deve avere dei contatti con le autorità locali. Importante poi che la società, gli eventuali interventi che riterrà di fare, li riferisca alle autorità locali, appunto, diciamo, agli enti territoriali, ma, secondo noi, sarebbe importante che prima di attuare qualsiasi intervento che magari la società avrà concordato, siano sempre sentiti, magari con un tavolo ad hoc, gli enti territoriali ed il Ministero, perché gli enti, diciamo, periferici, chi sta sul territorio a stretto contatto con le reali esigenze dei piccoli centri, con la realtà territoriale, può meglio riferire quelli che sono gli interventi magari più utili da attuare. Poi volevo rilevare un altro punto, in ordine all'articolo 3 e all'articolo 5, prevalentemente, dove apprezziamo sicuramente la formulazione, ma notiamo che in ogni capoverso, quasi in tutti i capoversi, si parla, la società si impegna. La società si impegna tutti i punti assolutamente condivisi per i quali la società si impegna, ma, a nostro avviso, sarebbe importante che poi la società, appunto, in capo a destra sia magari stabilito un onere di fornire, nei tempi che il Ministero riterrà, i dovuti riscontri circa l'adempimento degli impegni assunti, perché nel contratto ci sia scritto che poste assume l'impegno, è importante, ma forse poi è altrettanto importante verificare che questo impegno sia stato portato a termine. Un altro punto che vorrei rilevare è in merito all'articolo 5,8. Questa norma prevede, cioè quest'articolo del contratto prevede, che con l'obiettivo di rafforzare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini, dice testualmente questo, in digital divide, o residenti nelle aree interne o meno densamente popolate, e sempre con l'obiettivo di assicurare condizioni ottimali di accesso ai servizi nei piccoli comuni, la società si impegna, nei comuni però, c'è questo inciso, nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Quali sono i punti su cui si impegna la società? Quello di garantire Wi-Fi, quello di garantire magari ulteriori sportelli ATM, quelli di fare la videosorveglianza, tutti i punti importanti, ma ciò che mi dè sta preoccupazione è che la società si impegna solo, e comunque si impegna anche qui, dovremmo avere un riscontro poi sull'effettivo operatività, e diciamo in questo senso, solo nei comuni fino a 5.000 abitanti si impegna a rimuovere le barriere architettoniche. Ora io mi chiedo e vi chiedo, ma se un comune ha 5.000 abitanti, perché il signore con la sedia a rutelle non può avere accesso all'ufficio postale? Questo è un problema, a nostro avviso, veramente rilevante, perché è vero, innanzitutto, che il problema delle barriere architettoniche, un fatto ormai molto, come dire, dovrebbe essere già superato di per sé, non dovrebbero più esistere da tempo. Mi rendo conto che ci sono magari tante volte delle situazioni dove magari i locali, la società hanno delle barriere, hanno i gradini, hanno qualcosa, ma proprio per questo, siccome ancora purtroppo esistono, a nostro avviso devono essere eliminati e l'impegno deve essere, ovviamente, riferito a tutti, insomma, al territorio nazionale. Concludo dicendo che un altro ultimo punto che voglio, appunto, rilevare è in ordine alle sanzioni e in caso di inefficienza sono per sé sanzioni amministrative. Ora, è vero, sicuramente sono importanti, ma a nostro avviso, in caso di riscontrate inefficienze, soprattutto magari di notevole portata, sarebbe importante stabilire degli interventi di tutela adeguati, soprattutto in base alla natura e alla, come dire, alla portata della violazione, perché una sanzione amministrativa, con riferimento alla, diciamo, con riferimento alla società, che comunque, considerate le dimensioni della società, potrebbe non avere efficacia deterrente. Io ho concluso, vi ringrazio e spero che queste considerazioni da noi rilevate, da Udicon, possano essere prese da voi in considerazione e ritenute utili. Grazie. Grazie, dottoressa Iaconis. Chiedo ai colleghi se ci siano interventi. Collega Valdelli, prego. Sì, per ringraziare la rappresentante di Udicon per questa sua presenza, io non ho domande aggiuntive, la ringrazio del punto di vista e dell'analisi, anche dettagliata, che è stata fatta sul testo della Convenzione. Avrei preferito una partecipazione maggiore da parte delle associazioni di rappresentanti dei consumatori, che a mio avviso sono sempre un punto di vista significativo. E credo che, al netto del fatto che c'è poi la libertà di ciascuna associazione, anche relativamente alle aree vocazionali, di aderire o meno alle proposte di audizione, io credo che, proprio per le materie che andiamo a trattare, e quella del contratto di servizio tra lo Stato, tra il Governo, tra lo Stato italiano e poste, sia una delle materie che ricadono inevitabilmente su consumatori, utenti, cittadini, anche in vista, per esempio, delle liberalizzazioni che di qui a qualche tempo si metteranno in atto. Ecco, io mi sarei aspettato, Presidente, non lo nego, e questo chiaramente fa onore a chi ha deciso di partecipare oggi, una partecipazione maggiore da parte delle associazioni di consumatori, e credo, Presidente, che noi dovremmo valutare in maniera sistematica, sui provvedimenti che facciamo, un invito a partecipare alle audizioni del Consiglio nazionale degli utenti e consumatori, quando prevediamo che ci siano provvedimenti che abbiano una ricaduta significativa sull'utenza, sulla cittadinanza. Quello dell'azienda poste è un tema molto vasto, ha una quantità di dipendenti importantissima, penso che siano oltre 110.000 dipendenti, e una capillarità di presenza sul territorio assai significativa, perché parliamo di oltre 15.000, se non vado errato, punti di presenza fisica, di uffici. È un'azienda molto sindacalizzata, è un'azienda che progressivamente ha perso dei settori che sono stati già liberalizzati, che progressivamente perderà altri settori di competenza, e che ha delle difficoltà, come ci rappresentava la responsabile di Udicon, in alcuni dei settori che sono rimasti nelle competenze dell'azienda. La posta massiva, le notifiche dei certificati giudiziari, si fa un gran parlare della digitalizzazione, ma poi alla fine è così che vanno avanti le notifiche degli atti giudiziari. Di qui a breve anche la questione relativa alle multe prenderà un nuovo percorso più concorrenziale, non so se migliorativo o peggiorativo dell'attuale fase, il problema ormai cronico dei ritardi, per cui il suggerimento, secondo me, di un aggiornamento periodico di poste italiane, almeno una relazione al governo su questo stato di eventuale correzione, o delle iniziative che si mettono in campo per andare a ridurre questi ritardi, è certamente da salutare come una proposta di grande buonsenso e anche, secondo me, da recepire con attenzione l'idea che agli impegni, seppur formali, scritti sulla carta, ma che non hanno una, tra virgolette, sanzione, vengano invece aggiunte delle conseguenze nel caso che questi impegni vengano meno, perché a scrivere un contratto di servizio in cui ci si impegna sono buoni tutti. Noi, per parte nostra, Presidente, abbiamo grande dimestichezza con il termine degli impegni quando facciamo delle risoluzioni, per esempio, come questa Commissione, pensiamo al tema degli autovelox o di tante altre cose, e poi il governo si impegna, però poi alla fine se non si impegna chi se ne frega. Ecco, dovremmo invece fare in modo che quando il governo si impegna su qualcosa, così come in Parlamento va incontro a una sanzione politica da parte della maggioranza che ha votato questo impegno, dal punto di vista almeno del rapporto che intercorre tra Stato e società, qualunque sia la società che con lo Stato svolge un contratto di servizio, alla mancanza, all'inadempienza dell'impegno, corrisponda una qualche sanzione e una qualche conseguenza, altrimenti è inutile scrivere cose inutili sulla carta. Grazie. Grazie, collega Baldelli. La collega Maccanti, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io tengo a ringraziare la rappresentante dell'unica associazione che oggi ha ritenuto di essere presente. Noi siamo stati tra i richiedenti questa audizione, quindi credo che, ringrazio ovviamente sempre i presenti, ma credo che sia un'occasione persa questa da parte delle altre organizzazioni di consumatori. Lo dico perché credo che poter dar voce all'interno di questa commissione anche ai cittadini, che poi sono i fruitori finali di un servizio così importante, potesse essere, come dicevo, un'occasione importante, anche perché credo che questo sia anche il nostro compito. Noi abbiamo rilevato, e in questo non è proprio una domanda, ma le pongo alcune delle osservazioni che in realtà cittadini e organi di informazione hanno più di tutti portato un po' all'attenzione e che a noi piacerebbe approfondire, e per questo abbiamo chiesto più tempo, proprio all'interno del contratto di servizio, che è un'opportunità anche per noi parlamentari evidentemente. Noi siamo fortemente preoccupati per alcuni tagli annunciati nelle grandi città, perché è vero che esiste il problema dei piccoli centri, ma esiste anche il problema di alcune frazioni di comuni che hanno più di 5.000 abitanti. Io la ringrazio per averci, come dire, resi adotti anche del problema delle barriere architettoniche, ma è un tema anche quello dei servizi resi ai cittadini delle grandi città in zone periferiche. Io conosco la realtà della mia città, conosco la realtà di Torino, stanno chiudendo quattro uffici postali e in un caso evidentemente occorrerà fare più di due chilometri a piedi. Noi abbiamo città che sono per lo più abitate anche da popolazione anziana e da popolazione che non si può spostare. Volevo chiederle se anche a voi risulta questa politica di tagli nelle grandi città. E poi, sia da organi di informazione che anche da cittadini, ci risulta il ricorso forse un po' troppo facile da parte degli addetti di poste italiane a lasciare di default l'avviso di giacenza nelle buche delle lettere senza verificare con grande attenzione se l'utente è il cittadino e in caso no. Anche in questo caso sono tantissimi i disservizi per il cittadino, che molto spesso, pensiamo agli anziani, ma pensiamo anche ai lavoratori, a coloro che magari fanno i turni, che sono a casa in un determinato orario e che poi sono costretti magari a prendere permessi per andare a ritirare le raccomandate. Questi sono due degli elementi che ci hanno segnalato i cittadini e che noi intendiamo portare all'attenzione di poste italiane domani che l'azienda sarà qui presente. Volevo da questo punto di vista capire se sono segnalazioni sensate e che cosa come consumatori voi avete da questo punto di vista. Grazie comunque ancora. Grazie collega Maccanti, la collega Grippa e poi il collega Rotelli. Anch'io la ringrazio, mi associo ai ringraziamenti dei colleghi. Le volevo chiedere, visto che lei ha parlato anche di ritardi, non solo in generale dei ritardi, volevo sapere rispetto al passato, le risulta se questi ritardi sono aumentati, diminuiti e se ha una percentuale, se ci può indicare con una percentuale il valore di questi ritardi. Grazie. Grazie collega Grippa e collega Rotelli. Grazie Presidente e grazie Avvocato per la sua presenza. Io le volevo chiedere una cosa proprio secca. Rispetto a questo rapporto con l'utenza, la vostra organizzazione, la vostra associazione, ha potuto misurare una aggressività particolare da parte dei commerciali delle poste rispetto ai pensionati e alla vendita di alcuni prodotti finanziari. Perché, insomma, notizie che ci arrivano sempre più frequentemente parlano di un'attività particolarmente forzennata. Visto che noi spesso e volentieri, insomma, in aula soprattutto, sottolineiamo questi aspetti per quanto riguarda il sistema bancario, volevo riuscire a capire da lei se lo stesso avveniva per quanto riguarda, diciamo, ecco, chi va a fare risparmio di introposte. Grazie. Collega Gariglio, prego. Grazie per la sua presenza. Abbiamo particolarmente apprezzato i rilievi puntuali fatti rispetto all'articolato del contatto composto italiane. Mi pare significativo la sottolineatura che lei ha posto del termine impegna, il cui soggetto è la società e quindi ovviamente dovrà essere nostra cura come Commissione di valutare in che termini rafforzare o proporre di rafforzare la parte contrattuale dell'impegno, insomma, in qualche modo, per capire quale obbligazioni sono corrispondenti all'impegno sottoscritto. E' irrilevante il fatto, cioè la ringrazio, era sfuggito onestamente il fatto dell'impegno fino a 5.000 abitanti. Ora, ciò è chiaro che non vuol dire che sopra la società non è tenuto a farlo, occorrerebbe, l'immagine vado interpretato, ma discuteremo con la società come una particolare cura a porre mano agli interventi nei locali fino a 5.000 abitanti, ma è altissì vero che possano sussistere problemi anche rispetto ai portatori di handicap in location più grandi. Non sono mai noti casi simili nei territori che frequento, però faremo una verifica. La ringrazio, volevo anche chiedere l'occasione, con l'occasione, chiedere se poteva in qualche modo indicarci un po' il tipo di rappresentanza che avete sul territorio, come il monitoraggio che avete potuto fare della realtà del servizio postale, che ovviamente è molto differente nelle varie parti della penisola, per cui chiaramente noi dovremmo intervenire dando un parere, ma su un servizio che è articolato, che presenta problematiche ben differenti, anche in ragione della situazione orografica particolarmente complessa. Grazie. Bene, prima di dare la parola alla dottoressa Iaconis, io ricordo che le altre associazioni sono state contattate per il calendario di questa settimana, nella giornata di giovedì. Ovviamente questo per prendere atto che anche a volte i tempi con cui la nostra Commissione, gli uffici che ringrazio fanno le convocazioni, non sono necessariamente sufficientemente larghi per appunto consentire la partecipazione di tutti alle nostre audizioni. Detto questo ovviamente ringraziamo la dottoressa Iaconis, che ricordo ha lasciato una memoria che ha illustrato questa mattina e sarà disponibile, resta disponibile dagli uffici a tutti i colleghi commissari, in cui appunto viene riassunto il suo intervento. Detto questo le do la parola per replicare ai colleghi. Grazie. Grazie per le domande a cui spero di riuscire a dare compiuta risposta. I temi che voi avete trattato sono temi che noi affrontiamo tutti i giorni nella nostra associazione. Allora, i tagli degli uffici postali. Vado magari per ordine alla formulazione delle domande. Per quanto riguarda i tagli degli uffici postali è un tema importante dove noi come Udigon abbiamo sempre lottato. Non ho fatto riferimento in questo documento poiché alla originaria formulazione ho visto che già riteneva di volere ulteriormente valutare ulteriori tagli in base alle esigenze e il rapporto costi-benefici è già intervenuta G-Com e questa parte è stata modificata già nel contratto e la troviamo appunto nella formulazione attuale che prevede nulla, nessun ulteriore taglio. Purtroppo quelli che già ci sono sono stati poi, hanno trovato accoglimento anche in norme ad hoc e quindi non possono essere ritengo allo Stato salvo una riforma legislativa riformulate. Ma sicuramente possiamo lottare affinché questo non ci siano ulteriori tagli e alla luce mi pare di come sono riuscita a interpretare il contratto non ci dovrebbero essere ulteriori chiusure degli uffici postali questo un po' ci rasserena il problema è reale perché nei piccoli centri come le diceva soprattutto nei centri montani nei piccoli paesi di provincia nei piccoli comuni tante volte collegate male anche con la rete stradale cioè insomma è autostradale e addirittura pure l'ufficio postale andare nella grande città dal paesino per spedire una raccomandata sembra veramente eccessivo ma diciamo che allo Stato ciò che spieghiamo è che ci rasserena un po' e che ulteriori tagli in base a questo contratto non saranno fatti per quanto riguarda gli avvisi di giocenza è un altro problema pure importante noi abbiamo riscontrato che abbiamo ricevuto molte segnalazioni su questo abbiamo fatto dovuti reclami poi apposte molte volte l'avviso di giocenza non viene lasciato anche abbiamo rilevato il problema che secondo me il problema sta anche nel discorso dei palmari che loro hanno quando non so se si chiamano così insomma quei meccanismi dispositivi insomma di poste per su cui registrano lasciato avviso esce la ricevuta e lasciano nella buca ora non è detto che il magari al macchinario diciamo a livello informatico risulta lasciato avviso ma non è detto che l'avviso strappato dalla macchinetta io non voglio dire perdolo per carità ma per mero errore magari non viene messo nella buca giusta in un condominio con 70 buche magari postali viene messo nel posto sbagliato quindi la persona non ha mai ricevuto l'avviso purtroppo a loro risulta però l'avviso magari questo è un problema che abbiamo rilevato più volte come associazione l'abbiamo rilevato direttamente apposte questo accade soprattutto per le multe che poi arrivano con la prova che non possono essere neppure impugnate poiché risulta una compiuta giacenza essendo formale l'invito formale del ritiro avviso di andare a ritirare regolarmente fatto alla fine purtroppo ci sono questi avvisi che il compiuto giacenza uguale notifica e questo è un problema su cui noi abbiamo molto lottato e continueremo sempre a lottare facendo i reclami apposte in base agli strumenti naturalmente che noi abbiamo per quanto riguarda i ritardi della posta massiva la consegna della posta massiva in ordine a questo non ho allo stato una percentuale di chiara insomma sicuramente direi che la percentuale è altissima non so dire un numero ma la percentuale è altissima perché le persone che vengono da noi i consumatori che chiedono assistenza dicendo non ho mai ricevuto la bolletta è arrivata scaduto addirittura mi hanno staccato la corrente per non aver pagato ma non ho mai ricevuto la bolletta sono problemi che attanagliano i consumatori ogni giorno sempre di più per cui il numero direi è elevatissimo di mancato invio e mancata consegna della posta massiva su questo speriamo che non lo so un intervento di per questo io chiedo un monitoraggio un monitoraggio che dica noi abbiamo la società tot posta massiva da consegnare ci è arrivata in tale data l'abbiamo consegnata in tale data c'è un riscontro per dire effettivamente l'operato della società perché altrimenti non si riesce mai ad avere il punto della situazione quindi purtroppo il numero si è elevatissimo l'aggressività sui prodotti finanziari anche questo ci è stato segnalato abbiamo fatto i reclami anche su questo punto apposte perché effettivamente diciamo che poste da quando inizia a fare ulteriori servizi da quello che poi è il servizio diciamo per il quale è nata quello di spedire è diventato anche un po' si occupa anche di altri strumenti finanziari e lamentele in questo senso anche arrivano arrivano noi proviamo naturalmente a segnalarle tempestivamente perché vogliamo tutelare il consumatore vogliamo spiegare al consumatore quali sono i suoi diritti che non può naturalmente nessuno gli può impore di sottoscrivere e quindi insomma però le segnalazioni arrivano anche su questo punto per quanto riguarda la diffusione che mi chiedeva lei sul territorio nazionale noi siamo diramati sul territorio nazionale in maniera estremamente ramificata le situazioni che noi abbiamo rilevato infatti ho parlato magari più volte anche di piccoli centri piccoli comuni proprio perché Udicon sta non solo a Roma dove ha la sede nazionale ma sta radicata in tutto il territorio nazionale con oltre 100.000 associati sedi periferiche dalla città metropolitana alla sede più piccola al comune più piccolo e proprio dai comuni da questi centri ci arrivano per questo dicevo anche che è importante mettere in contatto sempre i referenti dei territori i responsabili territoriali con un tavolo con il ministero affinché espongano direttamente quelli sono ecco naturalmente il tavolo che sarebbe appunto auspicabile anche con la presenza dell'associazione dei consumatori perché da un lato le stanze dell'ente territoriale non solo del comune dall'altro la presenza dell'associazione dei consumatori porta proprio le stanze che noi riceviamo che noi recepiamo nelle nostre sedi potrebbe poi l'obiettivo insomma è quello di mettere in evidenza quali sono i reali problemi e cercare di affrontarli sperando di risolverli ma quantomeno affrontarli perché poi ogni gradino che si riesce a fare a favore a tutela del consumatore noi pensiamo sempre che sia sempre un piccolo passo che ci porta a garantire ai consumatori una tutela più ampia per cui le stanze ci arrivano direttamente dai territori anche da luoghi molto molto piccoli con disagi tante volte notevoli spero di avere risposto se ho messo qualcosa vi chiedo perdone vi chiedo di rilevarlo non so provo a rispondere grazie direi che ha risposto compiutamente a tutto e per questo la ringraziamo dichiaro così conclusa la seduta ricordo colleghi che domani alle ore 9 abbiamo l'audizione di